Il cavallo del Catria ora è tutelato per legge. Promotore dell'iniziativa è il consigliere di Civici Marche Giacomo Rossi, soddisfatto per l'approvazione all'unanimità nella seduta di ieri del Consiglio regionale. Vogliamo fortemente, ha commentato il vicepresidente delle Marche Mirko Carloni, che i giovani riscoprano l'allevamento dei cavalli e ripartano dai misteri della montagna. Per fare questo dobbiamo rendere economicamente vantaggiose queste attività che finanziamo attraverso specifici bandi attualmente aperti. Siamo convinti, ha aggiunto Carloni, che il sostegno degli agricoltori e degli allevatori sia nevralgico per preservare il territorio appenninico, conservare le risorse genetiche animali e vegetali, nonché mantenere vivi gli usi e le consuetudini nelle aree interne. Stiamo dimostrando concretamente, ha concluso l'assessore, che l'agricoltura e l'allevamento siano finalmente tornati al centro della politica regionale. Per Rossi questa legge andrà a finanziare, in accordo con le associazioni di categoria, alcune attività di promozione e di tutela del cavallo del Catria. Dunque Rossi, un bel risultato? Sì, un bel risultato. Una legge che va a promuovere e tutelare il cavallo del Catria, che è l'unica razza equina marchigiana. Quindi prosegue la strategia della regione Marche di valorizzare e difendere questo cavallo. Una legge che prevede anche delle risorse per effettuare la promozione, quindi anche per esempio la fiera Cavalli di Chiaserna, che quest'anno ritornerà in versione primaverile, il 30 aprile e primo maggio, dove tra l'altro sarà presentata questa legge insieme anche all'assessore Carloni. Quindi una legge che lega il cavallo al nostro territorio, lega il cavallo del Catria a Cantiano, prevedendo anche un centro di monitoraggio del cavallo del Catria, una legge che sicuramente fa bene al nostro territorio, al nostro introterra e promuove la regione Marche perché il cavallo è un prodotto diffuso e amato in tutto il mondo e sicuramente valorizzare la nostra razza equina autoctona e regionale significa anche promuovere la regione Marche.